ci troviamo a marina di ragusa contrada gaddimeli e diciamo che la nostra azienda circa di è costituita circa di 11 ettari facciamo ortaggi biologici soprattutto ecco sotto serra facciamo soprattutto ecco melanzana per il 50 per cento pomodoro zucchina cetrioli e peperoni abbiamo sia ecco facciamo sia la produzione che pure la commercializzazione siamo un'azienda soprattutto a conduzione familiare ci facciamo aiutare dai giustamente dai dipendenti serviamo dei clienti sia in italia che anche all'estero come può essere la la francia germania belgio noi giustamente mancano tutti i mezzi chimici essendo che noi abbiamo fatto questa scelta del biologico e in questi tanti anni ecco ci siamo fatti anche la nostra esperienza e la cosa fondamentale per avere una buona pianta e allevarla in col metodo biologico e pensare proprio a rafforzare quanto più possibile la pianta a farla crescere quanto più sana possibile sia a livello radicale soprattutto e di conseguenza anche a livello fogliare io cinque anni fa ho avuto ecco l'occasione mi si è presentata l'occasione di usare un prodotto che si chiama evo e dici ma perché l'ho usato perché questo è un mix di oli che diciamo irrorato sulla pianta sia a livello fogliare che dando l'infertificazione anche a livello radicale la pianta ne trae ottimi benefici essendo che lei riconosce questi prodotti naturali la pianta si rafforza diventa diciamo più spessa e quindi si protegge dalle dalle avversità climatiche anche a livello radicale i peli radicali si rafforzano e quindi da tutti i parassiti che possono essere dai nematodi dai funghi le radici crescono più forti di conseguenza danno da nutrimento ancora di più alla parte aerea il tutto diciamo si ottiene si ottiene un ottimo equilibrio e affinché quindi la pianta ne trae dei benefici che è in grado di sopportare diciamo le avversità climatiche e anche a livello produttivo hai una produzione molto più alta una qualità molto più alta poi i frutti bisogna dire che trattati con level rispondono in modo magnifico perché uno da un punto di vista di lucentezza e quindi colore un altro è la servevolezza del frutto cosa voglio dire cioè sia il sapore che il grado zuccherino ne acquistano dei vantaggi un'altra cosa è che i clienti questo me l'hanno fatto notare che lo stesso prodotto mio rispetto ad un'altra azienda di un'altra azienda biologica dura molto di più nel post vendita devo dire pure che da quando ho avuto ecco la possibilità e la fortuna di conoscere l'Evol e quindi di conoscere anche la Lea mi sono trovato all'interno di una famiglia in cui non mi hanno lasciato mai da solo mi hanno seguito sempre qualsiasi cosa sono stati sempre disponibili e poi non ho avuto mai sorprese perché tutti i prodotti che io uso all'interno dell'azienda sono consentiti in agricoltura biologici fatti analisi e contro analisi non ho mai riscontrato nessunissimo problema devo dire che mi trovo bene e continuiamo il nostro percorso speriamo sempre così anzi è che la ricerca non si ferma in questo senso perché noi da parte dei produttori ne abbiamo sempre bisogno la nostra azienda è un'azienda composta da circa 12 ettari con cultura tutta tutta in serra e ci troviamo a portopalo di capopassero lembo di terra adiacente al territorio di pachino zona igp dove viene prodotto il pomodoro igp coltiviamo il 90 per cento pomodori vengono coltivati raccolti e confezionati nel nostro magazzino i quali prodotti vanno a finire sulla tavola dei paesi europei austria germania italia svizzera francia e qualcosina e lussemburgo queste nazioni hanno un protocollo disciplinare molto ristretto quindi cerchiamo di produrre con minimi residui in modo tale da soddisfare le esigenze del nostro consumatore l'azienda signorello da circa due anni utilizza le vol le vol è un concimo organico che viene dato via fogliare ed ha degli ottimi risultati la pianta è cambiata di colore ha un verde più scuro e le foglie sono sono più robuste rispetto a prima e ci siamo accorti pure usandolo che ha un effetto repellente facendo le diverse analisi residuali ci siamo accorti che non ha nessun residuo chimico